Ed eccoci qua, ben ritrovati qui su Radio Sherwood www.sherwood.it Abbiamo appena finito di ascoltare gli Spagna Circo Est sonare dal vivo qui per noi sul palco di Radio Sherwood, vi ricordo i nostri contatti www.sherwoodfestival.it www.sherwood.it, pagina Facebook e pagina Instagram Sherwood Festival Allora, i nostri tecnici nel mentre hanno spostato tutta l'attrezzatura, la regia e in tempi rapidissimi siamo riusciti a recuperare due componenti della band Abbiamo qui con noi Francesco Pontillo che suona al basso la chitarra e al sintetizzatore Ciao Francesco! Ciao a tutti! Matteo Bertani al violino, fisarmonica e chitarra Ciao Matteo! Ciao! Detti anche Ponce e Don, per chi li conosce così Ragazzi, allora, intanto volevo comunicarvi, non so se lo sapete ma ogni anno Radio Sherwood sceglie un jingle per aprire le dirette del festival e quest'anno ha scelto la vostra bucatesta, lo sapevate? No, siamo molto contenti Ci cogli già impreparati alla prima domanda, però grazie, siamo molto... Bella carica Bella carica, bella storia Ecco, quindi un'ulteriore prova di quanto la gente che frequenta questo festival e tutti gli amici Radio Sherwood vi seguono Come è stato questo concerto? Come è andato? Come è per voi tornare a suonare dal vivo? Chiaramente dopo tutto questo tempo di silenzi Vai Ponce, che è il tuo momento Allora, eravamo super emozionati, questo sì, perché è tanto che non suoniamo dal vivo Abbiamo fatto l'unica data la scorsa, no, due settimane fa a Bologna e quindi erano super tesi ma e soprattutto perché torniamo a Sherwood che è un palco che ci vuole bene e Padova ci vuole bene Quante volte avete suonato in questo festival, rega? Io ho visto delle interviste Due, tre, tre sicure Un'intervista risale, ecco, forse al 2014, se non sbaglio Secondo me tre Sicuramente tre 2014, 2017 Siete dei veterani ormai Appunto per questo vi chiedo Se avete trovato, non so Che percezione avete avuto del pubblico questa sera? No, vabbè, il pubblico di Sherwood è incredibile Cioè, sempre il pubblico più Forse, boh, non si può fare una gara però è un pubblico incredibile È incredibile, cioè, è bellissimo Poi tornare qui È una famiglia allargata praticamente Cioè, conosci tutti, tutti ti conoscono e ti senti subito a casa, è bellissimo Cioè, mi sento mozzato Ci sentiamo a casa, ci sentiamo a casa Tornando al vostro percorso musicale Il 6 novembre dell'anno scorso Esce per la Garriccia Dischi di Bologna Il vostro album, Manciupicciu Esce in vinile, in formato CD, anche in digitale Tre anni dopo un altro vostro L'uscita di un altro vostro album La rivoluzione Tre anni prima Sì, tre anni prima Perdona Volete parlarci un po', ragazzi, adesso con più calma Perché immagino che nel concerto Cioè, nel concerto non avete avuto troppo tempo di Diciamo, di stendere questo concetto Allora, da dove viene l'idea di Intitolare un album Macciupicciu Com'è nato tutto questo progetto? Allora, Macciupicciu Praticamente per noi è una chimera Cioè, Macciupicciu proprio in sé è una chimera Nel senso che Ma è un po' forse così per molti È una città È una città Su cui alleggia un sacco di leggende Di miti Ed è una città in cui Marcello, il nostro cantante Si è trovato tante volte a poter andare E poi all'ultimo, per un motivo o per l'altro Non riusciva a raggiungerla E quindi è diventata per noi Un emblema di tutti quei viaggi Di tutti quei progetti Di tutti quegli orizzonti Che ti poni nella vita E che poi per un motivo o per l'altro Magari non riesci a raggiungere Ma forse è anche meglio così Cioè, rimangono quelle chimere Quegli obiettivi Che ti fanno andare avanti Che ti danno la motivazione E da lì è nato questo disco Che è nato in viaggio Perché è nato che eravamo in tour in Germania Nel 2018 sostanzialmente E lì sono nati i primi pezzi Penso alla mia rivolta Dormo poco e sogno molto È stato un processo lungo Per la prima volta è stato un processo Anche qui Su questo parlerà meglio Pons È stato un processo che Ci ha portato anche Con calma A rivedere le stesse canzoni Magari nate in tour Magari provate anche in qualche data In Germania sul palco E rivederle poi in studio Con calma Modificarle Sistemarle Aggiungere suoni Sperimentare sonorità In mondi diversi Ci siamo aperti molto a Latino America Abbiamo magari lasciato Qualche chitarra elettrica Per trovare qualche chitarra Latinoamericana Classica E questo è stato un po' Un esperimento Che è durato un paio d'anni Buoni E poi nel 2020 Appunto è uscito Come dicevi giustamente tu Machu Picchu Che è questo album qua Cioè è un album Che parla di viaggio Che nasce in viaggio E che esce in un momento In cui il mondo era bloccato Perché c'è stato il lockdown E nessuno di noi Poteva viaggiare Quindi abbiamo pensato Che Machu Picchu Potesse essere effettivamente Quel sogno Quel viaggio Fatto Nella propria camera Ascoltando un disco In macchina Andando al lavoro Quando non potevi fare nient'altro Perché eravamo tutti bloccati Non vi siete minimamente fermati Neanche Neanche in questi tempi di lockdown Insomma No Poi Ci siamo chiusi in studio E abbiamo passato il tempo lì A scrivere A produrre Insieme Creare Quindi Mai fermi Mai fermi Le Spagna Non saranno mai fermi Non ce la fanno Non ce la fanno Non ce la fanno Tra l'altro Dando una rapida occhiata Perché tutte Non me le riesco a ricordare I vostri testi Manca l'autore Manca l'autore però Manca l'autore Esatto E perché non c'è l'autore Perché non abbiamo una piccola Chiamiamolo Chiamiamolo È perso Si è perso Vediamo se riusciamo a rispondere Sono Li trovo estremamente attuali Molto anche pertinenti Con la situazione Sia che abbiamo dovuto vivere Ma anche riguardo Alle tematiche sociali È una musica questa Che È la musica la vostra Che potete ascoltare Che si può ascoltare Sia in macchina Ma anche da soli Ma anche una festa Proprio perché C'è un film rouge Dettato dalle parole Da parole Che a mio avviso Cioè quello che ho avvertito Io nascono da Assolutamente un vissuto Anche personale Però nel Se non c'è l'autore Forse Qualcosa possiamo dirlo anche noi L'abbiamo un po' ascoltato Questo disco E l'abbiamo anche un po' suonato È un disco molto Molto introspettivo In certe canzoni Penso a 100 metri Anche Mundo Da un po' che sogno molto Scusate Perché Mundo era il primo titolo Poi uscita con un altro titolo E le cose cambiano I discorsi di prima E no Però anche sui testi C'è stato un lavoro Anche di gruppo notevole Mi ricordo anche in furgone Ne parlavamo spesso Venivano fuori i testi Venivano rimaneggiati Questa frase funziona Questa no Questa spostiamo dopo Questa è forte Diventa un ritornello Quindi è stato un lavoro Molto interessante In realtà molto bello E effettivamente diverso Dal disco precedente Che era stato fatto Molto più di getto Molto più Non vorrei dire spontaneo Però immediato Ecco Si eravamo chiusi in studio Un mese Avevamo scritto un disco Ed era uscito Questo è stato un percorso lungo Molte canzoni Erano diversissime Nei provini E poi adesso sono Un'altra cosa Però È stato un processo A cui non eravamo abituati Ma secondo me Ha portato degli ottimi risultati E a proposito appunto Di collaborazioni A breve Uscirà il vostro Nuovo singolo Che è poi Un riarrangiamento Di un becchio Un classico brano Cioè volete parlare Una canzone Degli Onda Vaga Tattara Lì Che è stata tradotta In italiano È un po' Rivisitato il testo Diciamo È fatta insieme Ai Ai Cacao Mentale Che hanno partecipato Insieme a noi E anche quella Per chi non Le ha mai sentiti Sono un gruppo Di italiano Di cumbia Psicadelica Italiano Ma forse Peruviano Dovrebbe essere Il cantante Dovrebbe essere peruviano Con Con misture Di influenze Sì Sono in tre Fanno una roba fighissima Una cumbia elettronica Con lui che suona Che suona La tromba Trombettista Un cantante Un chitarrista Un cantante Un chitarrista Sono fortissimi E come sta Come è nata L'idea Di questa collaborazione Penso che Ci siamo Scusate Parlo qui davanti Penso che Ci siamo Conosciuti Si sono conosciuti Marcello E i ragazzi In un festival Probabilmente Poi noi facciamo parte Di Il nostro booking È la tempesta concerti Loro sono tempesta Invece Etichetta Semplicemente Un collegamento Amicizie È stata fatta Una proposta E E hanno accettato Molto volentieri Venendo anche loro Da quell'influenza Voi avete scelto Cioè Voi Avete proposto Di riarrangiare Questo brano E loro hanno E come mai Come mai proprio Tatarali Ma Come questo rispondo io Perché Gli Onda Vaga Sono stati un gruppo Che Che abbiamo ascoltato Molto E E soprattutto Tatarali È una canzone Che invita appunto A uscire A camminare Per superare un po' E difficoltare la vita Dice Voglio uscire a camminare Per imparare a sopportare Tutto quello che è Pesante Tutto quello che è Grave Nella vita Di tutti i giorni E abbiamo trovato Questo testo Molto in linea Con quello che vivevamo Noi durante il lockdown Quindi è stato un po' È stata un po' Questa cosa qui Insomma Ci siamo trovati Rappresentati Da questa canzone E al punto Da volerla Da volerla fare nostra E abbiamo pensato Che appunto Una band Che ha quelle influenze Che viene da quel mondo Come i Cacao Mental Potesse essere Un partner Ideale Per fare questa cosa qua Loro hanno accettato È uscito un pezzo Fighissimo Secondo me Uscirà 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 Il 2 luglio Il 2 luglio A mezzanotte Tornando al vostro album La rivoluzione dell'amor C'è qualche Manca sempre Manca sempre La rivoluzione dell'amor È un album A quale Non abbiamo partecipato Nella scrittura Nessuno dei due Perché noi arriviamo In realtà Nel Io nel 2016 Lui nel 2017 L'album Siamo arrivati in corsa Dentro a un tour Che già portava in giro Quell'album lì Per cui Quello che riusciamo Siete cresciuti Avete dovuto crescere Ci impegniamo Ci impegniamo Non abbiamo partecipato Attivamente alla scrittura No dai Allora Abbiamo preso i brani Abbiamo fatto i nostri Abbiamo suonati Ragazzi In chiusura Di questa meravigliosa chiacchierata Meravigliosa Io sono molto contenta Di Di Avervi ascoltato Intanto sul palco Perché Ci è mancata tantissimo La musica live Ci è mancata Proprio la sinergia E Già questo È veramente È tanto Secondo me Proprio è una Anche Anche Il feedback Del pubblico Ha parlato a sé Cioè Molto molto partecipato E Vi ringraziamo Per questo momento Grazie a voi Grazie a voi Vi chiediamo Le prossime date Se ne avete in programma E dopodiché Non quasi Allora Le prossime date ci sono Però usciranno A brevissimo Quest'anno è un anno Come ha detto Albi dello Stato Sociale È un anno lento Per il nostro settore Ma stiamo ripartendo Quindi le date usciranno tutte E ancora non possiamo dirvi nulla Però ci sono delle date sicure Qualcosa anche all'estero Qualcosa anche all'estero Che stanno per arrivare E abbiamo delle date bravo Anche all'estero Qualcosa anche all'estero E ne abbiamo Una in Francia Che verrà annunciata a breve Siamo molto felici di questo Anche perché Ci piace sempre molto Anche suonare in Italia Suonare anche all'estero È una cosa che Penso Abbiamo la fortuna Abbiamo la fortuna Di poterlo fare Penso sia veramente bello Di portare la nostra musica Sia in Italia Che all'estero Benissimo Allora Ringraziamo tantissimo Gli Spagna Circo Este Li ringraziamo anche Per il tempo dedicato Abbiamo sforato Un pochino Il tempo delle interviste No ci siamo Siamo rientrati nei tempi Allora Vi salutiamo Per questa Per questa sera di musica È tutto E ci ascoltiamo domani Ciao Ciao Ciao